Già un uomo che scontra la pena di 30 anni, si era macchiato anche di un omicidio, è appartenente a uno dei gruppi criminali più ferati dell'area catanese e per noi è sicuramente un campanello di allarme e in particolar modo la pericolosità sociale è stata descritta anche dalle sentenze, dai giudici e infatti quando a Catania noi siamo arrivati chiedendo di avviare un'attività tecnica, la procura generale e la distrettuale antimafia immediatamente hanno attivato i canali tecnici per la DIA al fine di raggiungere immediata la cattura del soggetto.